Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manuel, ideatore del Metodo Biro, il primo metodo che lavora sulla trasformazione del proprio stile di vita, sul migliorare il proprio corpo, migliorare le proprie abitudini e soprattutto migliorare la propria mente. Nello scorso video abbiamo parlato dell'identità e l'identità è un insieme di ciò che crediamo di noi, degli altri, del mondo, di ciò che ci circonda. Le credenze sono un modo di percepire la realtà, cosa io credo sia vero e la parola io è molto importante perché queste credenze non compongono e non descrivono la realtà nel modo più profondo, nel modo più oggettivo, ma è sempre soggettivo. Quindi quello che io credo, la mia identità, quello che io credo del mondo, quello che io credo di poter fare è sempre soggettivo perché un'altra persona può vederla in modo differente. Immaginiamo di fare un incidente, perdere due gambe, non abbiamo più la possibilità di camminare, non abbiamo più la possibilità di metterci in piedi, di correre, di muoverci in maniera autonoma. Tante persone di fronte a una tragedia, una catastrofe del genere si comporterebbero in un modo poco produttivo, si metterebbero di vivere, sarebbero depresse, sarebbero in una condizione in cui non hanno più sogni, in una condizione in cui decidono di non progettare più niente, di vivere semplicemente giorno dopo giorno con gli occhi spenti. Altre persone magari prendono quell'evento come un modo di vedere la parte che è rimasta, cioè non si focalizzano sulla parte persa e non se ne fanno una colpa, non si buttano giù, ma vedono quello che è rimasto. Cavolo, potevo morire, sono vivo, cosa posso fare con quello che ho a disposizione? Ed ecco che escono campioni olimpici, escono imprenditori, escono leader motivazionali, escono persone che hanno deciso di vivere veramente dopo quel momento. E quindi come interpretiamo quello che ci accade fa la più grande differenza sui risultati che andiamo ad ottenere e sulla soddisfazione di vita. Le credenze, cosa crediamo di poter fare, di poter raggiungere, sono la più grande arma che abbiamo, ma anche il più grande nemico. E oggi in questo video voglio parlarti di credenze che ci limitano, delle credenze limitanti. Se voglio mettermi a dieta, voglio perdere quei 20 kg che è una vita che ho addosso, ma credo in maniera inconscia, in maniera profonda di non poterci riuscire, perché ho provato centinaia di diete, perché i miei genitori sono sempre stati obesi e secondo me sono geneticamente sfavorevole. Ho le ossa grandi, sono destinato a rimanere così perché la mia genetica, la mia condizione oppure la persona che ho vicino mi porta a mangiare, mi porta a fare aperitivi e non riesco a mantenere uno stile di vita sano per tantissimi motivi. Quindi do colpe, scarico la mia responsabilità nei confronti di qualcun altro oppure nei confronti di un qualcosa che non posso gestire, perché la genetica purtroppo è contro di me. Ecco che ho delle credenze, ecco che non ho potere di cambiare, ecco che ho delle credenze che mi stanno bloccando, mi stanno tenendo ancorato a quella che è la mia condizione attuale. Se non riesco ad ottenere un grande risultato fisico, un risultato in termini di lavoro, in termini di relazioni, è perché molto probabilmente ho delle credenze inconsce o consce di non poter raggiungere quell'obiettivo. E nel momento in cui io sono ad un passo da raggiungere quell'obiettivo, ecco che se ho ancora forte quella consapevolezza, quella credenza limitante, ecco che mi autosaboterò per non raggiungere quell'obiettivo. Ed è il motivo per cui le persone che cominciano a perdere peso dopo qualche mese, a un certo punto mollano e riprendono i chili persi. È il motivo per cui le persone che stanno a dieta, in un periodo di blocco in cui vedono che la bilancia è ferma, puntano subito il dito per dire, vedi, te l'avevo detto, non sono in grado di perdere peso. Ed ecco che lasciano, perché non ne vale più la pena, perché hanno paura di impegnarsi al 100% e fallire. Hanno paura di impegnarsi al 100% e rendersi conto di non essere capaci di, di non essere ingarandodi. Oppure, cosa ancora peggiore, hanno paura che cambiare quella condizione possa allontanare le persone che siano vicino. Ci sono delle credenze subdole, delle credenze che veramente ci bloccano perché abbiamo paura di soffrire nel raggiungere quell'obiettivo. Da una parte vogliamo raggiungere quell'obiettivo, da una parte vogliamo perdere peso. Però dall'altra abbiamo paura che se perdiamo peso, le persone ci daranno meno attenzione. Abbiamo paura che magari la persona che abbiamo vicino possa andare via, perché magari si è resa conto che, cavolo, sei capace di ottenere un risultato del genere e io no. Magari abbiamo una persona vicino che è nella nostra stessa condizione, ha lo stesso problema e non ci sentiamo capaci di ottenere quel risultato perché poi quell'altra persona potrebbe sentirsi da meno. Sembrano cose strane, cose... però è quello che succede all'interno del nostro inconscio. È un qualcosa di veramente profondo. E quindi come fare per distruggere queste credenze limitanti? Bene, immaginiamo che queste credenze siano le gambe di un tavolo. Il tavolo, la parte piana del tavolo, è la credenza non posso perdere peso. Le gambe del tavolo sono i vari pensieri che io ho e che mi stanno limitando, come ad esempio la genetica, come ad esempio il fatto che le ho provate tutte e non ci sono mai riuscito, il fatto che a me piace mangiare, il fatto che non mi piace fare sport, tante credenze che io ho e che mi stanno impedendo di ottenere quel risultato. Bene, dobbiamo rompere quelle gambe del tavolo per far crollare il piano. Come facciamo? Dobbiamo in primo luogo smentire in maniera cosciente tutte queste credenze. La genetica? Bene, vado a cercarmi persone che geneticamente erano sfavorevoli, figli di obesi, obesi dalla nascita e che sono riuscite però a perdere peso. Vado a trovare persone che le hanno provate tutte ma alla fine si sono impegnate e hanno ottenuto un risultato. Ci parlo, leggo le loro storie e mi rendo conto che è possibile. Vado a vedere le storie, vado a smentire, vado a vedere se esiste veramente qualcuno che ha le ossa più grandi di altre e quindi il problema delle ossa non è della ciccia. E nel momento in cui ripeterò quella forma di pensiero, vado a pensare alla genetica, vado a pensare alle ossa grandi, vado a pensare a queste cavolate appunto, mi renderò conto che avendole smentite sto semplicemente, mi sto semplicemente nascondendo dietro un diso. Questo è il primo passo. Il secondo passo è la meditazione, riuscire a meditare e a ripetersi determinati frasi, determinati concetti e a generare uno stato emotivo che ci renda produttivi verso determinate azioni, verso il seguire una dieta, verso l'allenamento. Quindi riuscire ad entrare in uno stato emotivo produttivo. Questi due concetti, quindi lo smentire le credenze e porsi in uno stato emotivo produttivo, sono alla base del successo. Detto questo, dopo averti dato questi due consigli per eliminare le tue credenze limitanti, bene, ti saluto, soprattutto ti ricordo di mettere mi piace, di iscriverti al canale, di entrare nel gruppo Facebook Io sono Eccellenza e di seguirmi sulla pagina Instagram di Manuel Biro Trainer e come al solito ti auguro una buona vita, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!